Buonasera a lei, mi chiamo Gianluigi Rigetti e abito a Milano. Questa è mia moglie. Sono Lia Rubida, anch'io abito a Milano. Mi complimento per il servizio che la signora Letizia Maratti ha dato finora. Approvo il suo operato e spero che sia rieletta per continuare le opere già iniziate. Mi auguro anch'io e soprattutto forza stringa i denti e lascia perdere qualcuno che ce l'ha e che non ha nessuna importanza. In bocca al lupo. Grazie, arrivederci.